Ui ragazzi, bentornati qui su Squalo Internazionale, sono qui perché stavo guardando la classifica della Champions League perché da questo tema, cioè la classifica della Champions League secondo me in tanti non hanno ancora capito perché sto sentendo delle bagianate oggi nei commentari dell'Inter, c'è pseudo tifosi che parlano di prima squadra, seconda squadra sono tanti io a dirlo, ma tanti non hanno capito fosse un concetto importante che non è la Champions League dell'anno scorso. Partiamo un attimo dall'Inter che ieri l'Inter ha giocato malissimo, non faccio le pagelle perché credo che le pagelle dobbiamo fare, dobbiamo dare 9 titolari, 4 ai Zaghi che non ha capito che non può far giocare a Nautic e Tremi insieme, se a Nautic e Tremi sono due panchinari e dovevano giocare insieme almeno o uno o l'altro con Tremi o Tremi o Lautaro, con due, con tutti i Tremi, non tutte e due che non giocano mai e giocano insieme, cosa possono fare? Quello abbiamo visto Tremi e Lautaro abbiamo visto un buon Tremi, non ha segnato però almeno si è impegnato, ha fatto tanto, quello abbiamo visto, come si chiama, Tremi e Tremi, anche abbiamo visto giocare bene, ha nato, c'era pure segnato in Champions League, adesso è che è andato, io, non è da Inter, ok, però è andato in Ciccola, giocato insieme a Turam o Lautaro, ha segnato, si giocano loro due insieme? No, però questo è l'odore dell'allenatore perché non puoi schierare tutti i panchinari contro i Yago Boys, non è la Champions League dell'anno scorso, non c'è più qua Champions, dei gironi che che... no, quest'anno è un campionato, la Champions League è un campionato, deve arrivare nei primi otto se vuoi andare nelle posizioni più alte per poi fare un tabellone diciamo più leggero per arrivare in finale dei Champions, poi arrivare più in alto possibile perché in finale adesso non sogniamo, magari sì però non si può mai sapere, questo non l'ha capito nessuno forse, né i giornalai, né i giornalisti, né i tifosi, né l'allenatore di Inter e neanche forse gli altri allenatori perché lo volete capire che non conta avere sette punti, adesso veniamo a vedere la classifica, ve lo capite tutti com'è sta nuova Champions, l'Inter ha sette punti, com'è sette punti anche l'Arsenal, però l'Arsenal è fuori dai primi otto, quello che conta in questa Champions League non sono tanti i punti, ma la DR, la differenza reti, è quello che determina il primo posto, che determina il piazzamento in classifica, quindi tu provi anche gli stessi punti, però se hai la differenza reti minore dell'altra squadra sei dietro e quindi in questo momento, guardiamo la classifica, la mettiamo anche insomma in pressione, è interessantissimo, cioè Lastor Villa è al primo posto, ma al primo posto Lastor Villa c'è perché è insieme al Liverpool a 9 punti, ma non è prima perché è a 9 punti, e prima perché come differenza reti ha 6, è a più 6, quindi 9 punti con la differenza reti di 6, quindi in questo momento perché il Liverpool è messa come se conta in classifica, perché ha un gol in meno, è quello che conta, questo è un campionato, non è come la vecchia Champions League, è tutto diverso ragazzi, quindi tutti i dettagli sono fondamentali, hanno bisogno di concentrarsi neanche nei migliori particolari in questa Champions League e l'Inter la sta sottovalutando come tante altre squadre, la stanno sottovalutando, ma che si ne frega delle altre squadre, guardiamo noi, però guardate bene perché è interessante, al terzo posto c'è il Manchester City con 7 punti, ma anche l'Inter ha 7 punti, ma perché l'Inter è settimo? Perché? Perché il Manchester City ha 9 come differenza reti, quindi 7 punti con 9 e si trova, è la prima di quelli che era sotto i punti, quindi è terza in classifica, il Monaco 7 punti con 5 DDR, pari merito, è lì, quindi sono a pari merito, 4, 5, 6 e 7 faccio l'Inter, siamo tutti con 7 punti con 5 di differenza reti. Ottava c'è lo Sporting di Svola, quindi ripetiamo, primo posto l'Aston Villa con 9 punti, con differenza reti 6, secondo posto Liverpool 9 punti, ma con differenza reti 5, terzo posto Manchester City 7, ma con differenza 9, che per questo la mette al terzo posto, quarto posto Monaco, Brest, Bayer e Inter, a 7 punti o con 5 di differenza reti, tutte 4. All'ottavo posto lo Sporting di Svola, con 7 punti, ma con 4 DDR di differenza reti. Queste qua sono le prime 8 che oggi, dopo tre giornate andrebbero agli ottavi, andrebbero agli ottavi, quindi privilegierebbero di una posizione migliore, non fanno lo spareggio, quindi quando poi ci saranno gli ottavi, hanno la possibilità di avere un cammino un po' più facile rispetto alle altre, del tabellone. Poi, adesso entriamo nella zona playoff che va dal nono posto al 24esimo posto. Al nono posto c'è l'Aston, anche voi dite, proprio perché ha 7 punti, è perché ha 7 punti come l'Inter e le altre squadre, però ha una differenza reti minore, quindi è con differenza reti 3, quindi si trova al nono posto. Leggevo posto, Barcellona, con 6 punti e 7 DDR, undicesimo posto, Borussia, con 6 punti anche lei, come tante che adesso andiamo a rincare, però c'ha 6 DDR, quindi si trova all'undicesimo posto. Poi, Reamari, dodicesimo con 6 punti, ma con 4 DDR, tredicesimo il Benfica con 6 punti, ma con 3 DDR, e così via. La Juventus, anche lei sei punti come la Juve, però c'è un differenza reti minore, quindi che è 2 e 14esimo, poi c'è Lilla, c'è il Feyenoord, dire che è 1, poi Feyenoord meno 1, però stanno sempre 6 punti. L'Atalanta, 17esimo, con 5 punti, differenza reti 3. Bisogna segnale, in questo tempo, se non segni, il gol è importantissimo, ragazzi, vi ho sempre detto, mi sta seguendo dall'inizio, io sempre se l'avevo spiegato già a marzo, quindi è chiarissimo, ma in tanti non l'hanno capito, quindi non l'hanno capito che ieri abbiamo rischiato tantissimo, l'Inter ha rischiato tanto e rischierà se continua a sottovalutare così tanto la Champions, i titolari, almeno, più titolari devono essere in capo, perché non possiamo permetterci nessun errore, ne abbiamo fatti troppi fino adesso. Però andiamo avanti, l'Atalanta abbiamo detto il 17esimo con 5 punti e 3 IDR, il 18esimo allo Stoccarda, il paese San Germano il 19esimo, il Celtic il 20esimo, Spalta Praga il 21esimo, il 22esimo all'Italia Mazzagami, il 23esimo, il Bayern Monaco, ragazzi, il Bayern Monaco è giù, è giù, c'è la differenza reti scandalosa, perché ha fatto tanti gol, l'Atalanta però è a 3 alla fine, ha fatto tanti gol però alla fine l'ha preso di tanti ieri e quindi è a 3, sia come punti e come differenza reti, il 24esimo il Girona, a 3 punti ma 0 di differenza reti e fino a qua sono arrivati dei pre-off, queste qua si sfiderebbero per andare poi a giocare contro le prime 8 negli ottavi, le eliminate, a oggi sarebbero eliminate le squadre che vanno dal 25esimo posto al 36esimo e adesso ve le dico, sono Milan con 3 punti ma con meno 1 di differenza reti, il Club Lug con 3 punti a meno 4 di differenza reti, l'Atletico Madrid è al 27esimo posto con 3 punti ma meno 5 di differenza reti, il PSV 2, anche l'Atletico Madrid ragazzi che si era aspettava così bassa, eppure in questo momento è bassa, PSV 2 punti meno 2 di differenza reti, il Bologna 1 punto con meno 4 di differenza reti, in questo momento è al 29esimo posto e poi Shakhtar Donetsk, Lipsia, oh Lipsia 31esimo, 31esimo posto, Lipsia con Lipsia deve vincere ragazzi, ma non sottovalutiamo come hanno fatto con i Young Boys, Lipsia a 0 punti fino adesso, Parti Stumgrado, scusate, è al 32esimo con 0 punti e meno 4 di differenza reti, poi c'è Stella Rossa, Salzburgo, Young Boys, o ieri Young Boys abbiamo così faticato nel 33esimo, ultimo in classifico, è l'ultimo in classifico, e Stumgrado è abbattuto a 0 punti, e ricordiamo che noi abbiamo giocato con la Stella Rossa e Young Boys fino adesso, con Young Boys abbiamo fatto così tanta fatica, pensate che adesso mettiamo quali più forti, però il Leverkusen in questo momento si ritrova, non la trovo più, Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen, lo possiamo sottovalutare ragazzi, è insieme all'Inter, proprio pari all'Inter, 7 punti, quindi le prossime pari dell'Inter saranno le percuse, Lipsia e Arsenal, ragazzi, bisogna, non so in che ordine, però non mi ricordo in che ordine, però sono queste tre squadre, che perché devo, qua dobbiamo, veramente, basta, tutti i, le secondi, no, c'è il periodico anche se c'è la Juventus il giorno dopo, non me ne fu, te la mazza, deve giocare, almeno uno, fatturarmi l'autore, deve giocare di Marco, devono giocare i più preparati e i più forti, perché siamo in Champions League e non è come l'anno scorso, è un campionato questo, che arrivano in prima volta, meglio sta, l'Inter ci deve stare, però è una questione che siamo l'Inter, se siamo l'Inter dobbiamo sempre sperare al massimo, e per il resto avete paura quella della Juve, io con la Juve non sono, non ho paura della Juve, dobbiamo stravincere con la Juve, se la Juve è questa vista fino adesso dobbiamo stravincere, quindi mi preoccupano più che gli infortuni che succedono, perché ieri abbiamo visto gli infortuni, ne abbiamo una partita, però adesso speriamo che dopo l'ultimo futuro di nazionale, che la nazionale non ci sarà fino a marzo, le cose vadano un po' meglio, perché è anche la nazionale che sta un po' rompendo le scatole, però ieri è stata un lutto, è stata un lutto, sicuro che adesso avete capito che la Champions è importante, quindi anche se segnava ieri di Turam, dopo il 2-0 faceva il 2-0, noi eravamo a 6 come differenziali, eravamo in questo momento quarti, da soli, c'eravamo quarti dietro il match stessi, sempre 7 punti, ma eravamo quarti, ora siamo invece settimi con 5 differenziali, quindi ogni gol è fondamentale, l'Inter ieri doveva fare 3-4 gol, invece uno è un successo, ci riportiamo a casa se tre punti, ma non conta solo i tre punti, conta fare gol ragazzi, quindi non essere disfattisti qua, essere andata nella svegliata, l'Inter siamo forti ragazzi, io te lo sto dicendo siamo proprio forti, però lo si è visto ieri, quanto è entrato, l'ossatura, titolare della squadra, la partita è cambiata da così a così, se prima aveva avantiato solo Bissek, quanto è entrato tutta l'ossatura e devo dire anche Zerinsky non è tanto male, perché se vi riguarda la partita, Zerinsky almeno ci ha provato a tirare, non è ancora quello, ma c'è un motivo per cui Zerinsky non è neanche quello, perché non ha giocato con l'Apro mai tutto l'anno scorso, si è fatto male sempre quest'anno, già con l'Inter una volta e poi nazionale, però si deve svegliare anche lui, però io per adesso gli do gli altri in altri, come gli do anche a Tademi, perché fino ad adesso non è mai stato schierato titolare da solo, però non può essere, non può fare parte da solo lui con un altro, ci deve fare, almeno inizialmente gli devi mettere uno dei big a fianco, perché quando ci avevamo avuti a fianco non ha fatto male Tademi, però non ha segnato. Ma sono convinto che però poi Zerinsky si dà la possibilità, il problema è che ieri alla fine è andato nel, è caduto nel fosso anche lui di quelli che non hanno giocato bene, bisogna essere realisti, non va bene così, è criticare ragazzi, è bello, perché Danieloni si impara, spero che adesso avete capito come funziona questa Champions, perché la Champions League non è quella, ripeto, dell'anno scorso, è la quarta volta che ho lì in questo video, ma è giusto, lo ripeto ancora, non è quella dell'anno scorso, ogni gol è importantissimo per essere davanti, fate conto che l'Inter con un punto in più della Juventus si trova la settima e la Juventus quattordicesima, il Manchester City che ha sette punti e il terzo in classifica, l'ultimo delle squadre che ha sei punti, il Feyeno del sedicesimo, l'Atalanta è il diciassettesimo e il Manchester City è terza, però l'Atalanta c'è solo due punti in meno del Manchester City, capite che i punti non contano la mazza? Contano i gol ragazzi in questa Champions, i punti non contano niente se non fai gol, cioè contano insieme, contano i punti e i gol, cioè il Bayern ha fatto 9 gol l'altra volta, però poi ne ha venuto a prendere 5 e si è un punto a capo, devi segnare, però grazie a quei gol l'altra, magari il Bayern si salverà in qualche modo, bisogna segnare ragazzi, noi adesso siamo a 5 come differenza reti, però guardate, se andiamo a vedere la squadra che la differenza dei migliori è il Manchester City, forse la più forte, perché è vero, due punti meno di Liverpool e di Aston Villa, però poi anche Liverpool e di Aston Villa fino ad adesso non hanno beccato, cioè la Aston Villa, Liverpool ha beccato l'Atalanta, quella casa non ha vinto. lì è arrivato a vedere, però adesso non si può andare a fare squadre forte, vedremo, vedremo, secondo me in questo momento sono tutti lì, però c'è da dire che le prime due del campionato, l'ho detto che ieri, le prime due del campionato spagnolo, hanno battuto le prime due del campionato tedesco anche bene, quindi fra Spagna e Germania, la Spagna sta battendo la Germania, adesso gli italiani e inglesi siamo lì, sono leggermente avanti loro perché hanno battuto il Bologna però, e niente, spero che avete capito come funziona questa Champions League, e quando riguarda l'Inter bisogna solo dare un po' più di attenzione ragazzi, più di attenzione ci vuole più attenzione, perché ieri ci siamo vestiti molto, è bello vincere così il novantesimo, è bello, però capite che se giocava a meno uno dei due, titolari, anche se non c'era di Marco lì, magari un gol l'avrebbe fatto lo stesso, ma se tu mi tiri fuori, Turab, Lautaro, Di Marco, Bastor, tutte e quattro, cioè la fascia sinistra non c'era proprio ieri, c'erano Bissek a sinistra, cioè toglie uno e la sinistra, non tutte e due, cioè infatti a destra non mi sapisce che comunque Davos era quello che c'era di più, circa da sinistra non c'era nessuno di ruolo, Carlos Augusto ieri non è uscito una volta, poi si è fatto anche male, quindi portiamoci da casa questi tre punti, ma è giusto per una volta non essere contenti, ma siamo tranquillissimi perché siamo forti, però capire che siamo all'inizio della Champions, la competizione diversa da sempre e che va affrontata in un modo diverso per diversi motivi, perché contano i gol più almeno fino a quando poi non andiamo agli ottavi, la Champions è così, è un campionato, è un campionato, l'Italia deve affrontarlo come un campionato, non puoi fare il Turab e il Champions League, ragazzi, il Turab si fa il Coppa Italia, non dice per sì, ma neanche il Coppa Italia non puoi fare più, il Coppa Italia fai solo una partita, poi becchi subito la squadra forte, per come è fatto il calendario della Coppa Italia, il Turab va fatto quando hai la possibilità di farlo che è nei punti che è una certa distanza da le altre, ma in questo momento purtroppo non siamo nelle condizioni di farlo e non abbiamo i giocatori per farlo, ma un Turab è proprio così radicato con sette titolari in panchina, no, quello non lo puoi fare adesso, non lo puoi fare, però l'abbia capita, lo capita anche di nuovo, spero che avete capito anche voi, ci vediamo nei prossimi giorni, viva l'Inter, forza l'Inter, e ricordate che il Bauscia non è per tutti, non è per tutti come dice il Bauscia, presto una nuova hit di Sergio Saugeni, come si chiama lui, il Bauscia, oh, è proprio un bel bambino quello lì, mi raccomando, qualche 80 male dovete comprare la canzone del Bauscia a Natale, vedrete quando uscirà, che vuoto che farà, ciao ragazzi, c'è la scuola.